Anche all'Aquila corrono le richieste di vaccinazione, effetto delle restrizioni imposte dal Green Pass che a quanto pare sta convincendo anche i più scettici e lo dimostrano i numeri. L'ASL1 aveva ridotto gli slot per i vaccini non avendo moltissime dosi ma ora le richieste stanno aumentando. Nel fine settimana in provincia dell'Aquila si sono sfiorate le 3.000 vaccinazioni con file nelle prime ore della mattina nel centro vaccinale di San Vittorino, l'unico aperto in città al momento per permettere al personale di fare le ferie dopo un anno durissimo e senza sosta. Ma qualcuno ha denunciato pure i fili assembramenti, l'ASL in questo senso ha sempre spiegato che spesso sono gli utenti a presentarsi prima dell'orario stabilito e così si creano le file e c'è anche da considerare la variabile di persone che si presentano senza prenotazione nella speranza di ricevere dosi avanzate. Abbiamo molte prenotazioni, gli indecisi si stanno convincendo a vaccinarsi e questo ci fa molto piacere, di conseguenza l'effetto Green Pass è sicuramente stato un effetto favorevole e ci auguriamo che continui. Posso dire che sono state ad oggi somministrate 318.312 dosi di vaccino. La prima somministrazione è stata effettuata da 186.518 persone e ben 131.794 hanno effettuato anche il richiamo, il che significa che rispetto alla popolazione target, intendendo per popolazione target tutta quella popolazione può essere vaccinata, quindi escludendo quelli che sono gli 0-12 anni, le persone 0-12 anni, escludendo quelli che sono gli immunodepressi, quelli che non possono effettuare il vaccino per alcune malattie e naturalmente quelli che hanno avuto recentemente il Covid. Significa che ci troviamo a oltre il 50% della popolazione target, ben oltre il 50% che ha ricevuto tutte e due le dose ed oltre il 75% che ha ricevuto almeno una somministrazione. In provincia si punta all'80% della popolazione immunizzata per fine settembre, l'obiettivo ora sono proprio i giovani. A livello della provincia dell'Aquila i contagi da variante delta non sono molti, ci aspettiamo comunque un aumento in quanto la variante delta sta per diventare, come avrete visto anche a livello nazionale, la dominante. L'unica arma, l'abbiamo visto, è quella del vaccino che fa sì che la persona, qualora venga contagiata, non ha mali, cioè non vada a finire in ospedale, possa semplicemente avere una positività senza sintomi o con scarsi sintomi ed essere trattata nella propria abitazione.